L'appuntamento con l'indice continua a fare caldo, avete visto? Ieri è stato veramente il primo weekend, quello estivo col mare calmo, caldo, la gente si è riversata sulle spiagge e tutto è andato come doveva andare. Grazie a Dio non ci sono stati problemi, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'ospedale. Ne parleremo ampiamente, fra un po' ci sono delle interviste, però sapete cosa mi sta preoccupando per ora in questa nostra realtà? E' che ci sono troppi uffici stampa, sembra una stupidaggine, ma come tu giornalista? Il guai è proprio questo, ci sono troppi uffici stampa e anche le pulci hanno la tosse, perché il più tinto consigliere comunale, non di Ragusa, stiamo parlando di altri posti a Ragusa, no, ma il più tinto consigliere comunale di un paesino di 350 abitanti nel fondo della Sicilia c'è l'addetto stampa e fa a gara con l'altro consigliere e con l'addetto stampa dell'altro consigliere a chi tira fuori prima la notizia. Non c'è più il problema di capire come possiamo intervenire e risolvere il problema, no, bisogna denunciarlo. Quindi, la cosa più banale, c'è la buca sulla strada? Non è importante che il consigliere vada dall'assessore e gli dice io da consigliere di maggioranza o di opposizione, quello che volete voi, ti prego di fare questo buco, arripeziamolo, no, è più importante che il proprio addetto stampa faccia partire un comunicato che viene pubblicato sulle comune news, su quel giornaletto, perché tutti i comuni d'Italia hanno 5 o 6 giornali online, tanto che costa fare il giornale online che si addumano le luci o si paga l'affitto? basta avere un computer a casa e un collegamento su internet, manco fibra e tu fai il tuo bel giornale. Allora l'importante è essere il primo sul giornale online, quindi il consigliere Pinco Pollino lamenta la buca, bastardi, quelli della maggioranza e compagnia bella. Questo sta diventando un dramma, perché non c'è più la percezione del problema, il problema si estrinseca nella conferenza stampa, anche le pulci hanno la tosse, fanno conferenze stampa tutti e quindi che vuol dire? Che non servono a niente, perché una volta la conferenza stampa era il momento, è come se il Presidente degli Stati Uniti, ricordate nei film c'è quella conferenza stampa, quello messo lì con tutti i giornalisti, se ne facesse tre al giorno ma chi ci dovrebbe chiedere più? Allora il problema è proprio questo, io inviterei ad essere un po' più, come posso dire, più vicini alla terra e capire che ci sono dei problemi che si possono risolvere senza andare a fare la conferenza stampa o scrivere la lettera aperta, perché sa che il primo giornalista stupido che c'è in giro te la pubblica, senza metterci un niente. Il giornalista non deve andare a sindacare, no, il giornalista deve anche capire quali sono le cose giuste e le cose sbagliate. Dico questo perché parleremo ampiamente del problema dell'ospedale, perché oggi c'è stata la conferenza stampa all'impiedi in un angolo dell'ospedale civile di Orazio Ragusa. Il guaio è che a Orazio Ragusa lo stavano vegliando a tumbolate, nel senso che c'era gente che diceva vergognatevi, andatevi, lo hanno visto, lo hanno riconosciuto e su questa storia dell'ospedale non si può più andare avanti con i comunicati stampa. CGL, Wille e Cisle, ah non ne possiamo più, che vergogna, tutte queste cose qua. La CGL domani facciamo un'azione di protesta, ma nessuno che faccia qualcosa di veramente tangibile. Ora io non è che sono un eroe, ma ve l'avevo detto che l'avrei fatto appena possibile una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Allora questa è la denuncia che io ho presentato questa mattina, ci levo i miei dati essenziali perché sono, tanto lo sanno tutti dove sono nato e compagnia bella, e io ho denunciato il fatto che a Ragusa non si possano fare alcune cose. Ora è comprensibile un giorno o due, succede una cosa, si blocca e lo capiamo, ma non è comprensibile 21 giorni. Allora se per 21 giorni per esempio non funzionano le sale ospedaliere, le sale operatorie, come ha detto Aricò nelle interviste di venerdì, dice purtroppo non possiamo operare, li andiamo a portare a Modica per chi ha un problema e a Vittoria per chi ha un altro, ma questo è in regime di eccezionalità, ma quando per 21 giorni non funziona c'è un'interruzione di pubblico servizio e non si può fare questo. Allora questa è la denuncia, è stata firmata, l'ho scritta a mano, erano le 11.20, vedete il bollo sopra, quello dei carabinieri. Io purtroppo devo dire che non so che fine farà, non so dove andrà a finire, quanta gente la seguirà, se servirà, se i carabinieri andranno a fare dei controlli, non ve lo so dire, però ho la coscienza a posto per avere fatto qualcosa, non denuncio nessuno anche se i colpevoli si potrebbero individuare, ma so che qualcuno non ha fatto il suo dovere, torneremo a parlare di ospedale. E invece andiamo avanti, perché mentre a Ragusa c'era questo enorme problema dell'ospedale, il sindaco, ed è il sindaco di Ragusa, giustamente era a Palermo. Diceva a Palermo c'era una convention importantissima, perché c'era la presentazione del candidato alle elezioni regionali, si sono fatte queste primarie, pensate che hanno votato in tutta la Sicilia, c'erano 4 mila persone. Devo dire che Peppe Calabrese ne porta di più quando si fanno le primarie a Ragusa, ma qui tutta la Sicilia 4 mila persone. Vedete il sindaco, ora io non voglio criticarlo, ma io se fossi stato il sindaco oggi sarei stato ieri in unità di crisi in piena comune chiedendo a tutti quando si risolveva il problema. Lui giustamente era a Palermo per assistere a questa, come posso dire, a questa, è stato insignito della veste di cavaliere in difesa della Sicilia e quindi il sindaco era lì come esempio lungimirante del Movimento 5 Stelle e quindi ve lo immaginate cosa ci andranno a dare dopo, non se ne deve avere a male su questa vicenda, a parte due o tre incontri con il prefetto e con il sindaco e una conferenza stampa, non mi pare che abbia fatto molto altro. E allora cosa è successo a Palermo? A Palermo Grillo capisce che è un po' come la Raianere quando ha voluto scardinare Catania, è partito da Comiso, no? È andato da Comiso, ci ha fatto vedere il sole o meglio la luna del Pozzo e poi è andato a Catania e ci ha messo 18 voli su Catania. Però prima è venuto da noi a prenderci per i fondelli e questo stanno facendo qui il Movimento 5 Stelle perché noi siamo la prima regione dove si vota e quindi dicono partiremo dalla Sicilia per scardinare l'Italia. Io ho preso un paio di minuti di Grillo e ve lo faccio sentire. Una parte è stata particolarmente bella quando ha detto la Sicilia è il posto dei paradossi. È una terra bellissima dove ci sono ricchezze enormi eppure sono tutti in mezzo ad una strada. I giovani hanno lavoro e tutto quello che è possibile dire di questa regione. Siccome Grillo è un comico, io non riesco a comprenderlo come uomo politico vero e proprio, mi piace molto come fustigatore dei costumi, quello dicevano ridendo castiga i costumi e può essere, fa ridere e ci dice quali sono le nostre magagne. Ma affidargli una regione che per dieci anni non è stata in mano a nessuno, va bene, avete ragione, non mi sto preoccupando, è una regione che non è stata in mano a nessuno, è vero, ma affidare a uno che è stato scelto da 2000 persone via internet la guida di una regione perché piaceva a Grillo che lo aveva già indicato, gli altri facevano finta di partecipare a queste primarie via internet. Allora a me sembra che il cancelliere in questi cinque anni è stato un bravissimo deputato, meglio di tanti altri, ma poteva fare grandi cose e non l'hanno fatto. Si sono adagiati al sistema che c'è in questa Sicilia. Qua bisogna fare la rivoluzione, bisogna cambiare. Allora dice cosa vuoi? Vuoi una cosa? Dobbiamo cambiare. Se abbiamo fatto tante cose sbagliate qualcuno deve cambiare. Comunque divertiamoci per cinque minuti, sentiamo Beppe a Grillo alla convention di ieri. Questo movimento nasce perché io un giorno mi sono iscritto al PD, non ve l'ho mai detto? Un giorno perché facevamo le battaglie nelle 5 stelle, l'acqua pubblica, il wifi libero e gratuito, la mobilità, i rifiuti, le energie rinnovabili, con i miei spettacoli portavo un po' di novità, non c'era ancora la rete. Quindi c'erano questi temi, questa visione che bisogna stare attenti a non perdere, questa visione che io avevo in questi frammenti di pensiero. E io dicevo, ma come mai, non c'era ancora il movimento, dicevo, ma come mai una sinistra non si occupa di acqua pubblica, di wifi libero e gratuito, c'è l'accesso alla conoscenza per diritto di nascita, le rinnovabili, io avevo la casa da vent'anni con i pannelli, le pompe di calore. Perché la sinistra non parla di rifiuti, di mobilità, di queste cose che ne parlo io negli spettacoli, ne parliamo noi così. Allora un giorno fanno un congresso al PD e al congresso io ho detto vado a parlare al congresso, soffrendo un po' e bisognerebbe farlo perché funziona il masochismo consapevole. Perché adesso noi ce la raccontiamo qua, perché siamo tutti consenzienti. Ma io allora ho detto voglio fare il masochista consapevole, voglio andare al congresso del PD e raccontargli queste cose e dire prendetevele voi, io sono un comico e sono insieme a un manager che vorrei ricordare stasera che senza il papà di questo signore qua questa roba non ci sarebbe neanche stata, o perlomeno l'organizzazione. Allora cosa faccio? Leggo lo statuto del PD e c'è scritto che per andare al congresso devi essere tesserato nel PD, c'era solo quell'impedimento lì. Ero ad Arzachena e vado a iscrivermi a una sede del PD di Arzachena. Arrivo nel paese, c'era chiuso, c'era il macellaio, c'era la chiave, mi apre questa sede, c'erano due pensionati seduti dietro, ho detto sono grido, vorrei iscrivermi al PD, mi ha detto prego, mi dà la tessera, io firmo, gli do 15 euro e divento iscritto al PD. E ho detto beh vado là, vado là, allora annuncio che andavo a parlare per fare questo masochismo consapevole, per dare questo spunto alla sinistra, di occuparsi di cose di sinistra e mi arriva il monito della dirigenza che si è unito e dice allora non può essere, non possiamo accettare un intervento di Grillo perché il suo movimento è ostile al nostro, è ostile, l'acqua pubblica è ostile, le rinnovabili sono ostile, il riciclaggio è ostile, eravamo ostili. E allora mi ricordo che Fassino disse la prima profezia e disse ha mica preso per un autobus il PD, non si sale così, se vuole farsi un partito si faccia al suo partito, vediamo quanti voti prende. La seconda la fa da con Chiara Pendina e ha detto vieni, mettiti in lizza e vedrai se ti votano. Non è a Zecaone, in casa lo guardano come... Comunque nasce dal paradosso, è tutto un paradosso, è tutto questo mondo un paradosso, la Sicilia è un paradosso, la Sicilia è tutto il contrario, è ricca, è povera, è intelligente, è stupida, è colta, è incolta, c'è tutto in Sicilia. Ecco perché se non si fanno le cose qua difficilmente possiamo fare nel continente, qui bisogna aprire un ponte, l'autonomia straordinaria della Sicilia insieme a quella Sardegna. Il ponte si fa dalla Sicilia alla Sardegna, è fantastico. Andiamo tutti in Costa Smeralda, è meraviglioso. No, scherzo, ma voglio dire. Allora, questo movimento è nato da visionari, con già Roberto che era un manager dell'Olivetti, io un comico, due mondi completamente differenti, ma completamente differenti. Io un buffone che facevo battute, controbattute, giravo e guadagnavo anche un sacco di soldi, maledetti voi, maledetti voi. Io sono l'esempio di averci rimesso in politica. Guadagna più di maio di me, questo non mi va giù. No, a parte, a parte, è un po' la visione, la visione di che cosa, come vogliamo cambiare il mondo, questo non dobbiamo perderla. Quando parliamo di visione il mondo si sta trasformando alla velocità della luce. Quando ho sentito i sindaci parlare, dobbiamo comportarci come buoni padri di famiglia. Sempre sento questa frase, specialmente in Sicilia, il buon padre di famiglia. Io sono o sei figli, ma vi garantisco che non sono un buon padre di famiglia. Sei figli, sei, di cui tre vegani e tre che mangiano carne tutti i giorni. I figli, però vedo che sono completamente diversi come sinapsi, come idee, come ragionamenti. Abbiamo una classe che sta venendo fuori di ragazzi che pensano altre cose in altro modo. Mio padre mi ha lasciato casa, ha lavorato per lasciare la casa ai propri figli, a me, a mio fratello. Io ho lavorato per lasciare la casa ai miei figli. La macchina, i miei figli non vogliono case, non vogliono mutui, non vogliono i mutui con le banche, non vogliono comprarsi un'automobile. Hanno lo sharing in testa, la condivisione, ci sembrano stupidi che sono sempre lì attaccati a un apparecchietto e condividono musica, viaggi, esperienza, perché hanno capito che il loro patrimonio è la loro esperienza e non gliela porta via nessuno. Guardate che con 40 euro vanno dall'altra parte dell'Europa. Hanno esperienze completamente diverse a quello che ho fatto io e a quelle che fanno quelli della mia età. È una generazione a cui dobbiamo dare questo mondo qua, prepararlo. Io ho una metà digitale e una metà analogica, sono lì in mezzo. Ancora con Gianroberto, anche lui, nonostante, mi ricordo, avevamo dei problemi col telefonino, l'ultima generazione uscivano queste robe qui. I miei figli sono velocissimi nell'apprendere tutte queste cose qua. Quindi abbiamo fatto uno studio su come sarà il mondo nel 2015, nel 2025, scusate, il lavoro. Ma il 40% dei lavori conosciuti non ci saranno più. Tutte le intermediazioni saranno finite, i lavori di intermediazione. Ci saranno lavori di creatività. Il mondo si sta connettendo. Stanno sparendo stati, stanno sparendo nazioni. Stanno tornando quello che diceva lo spauracchio. Stanno tornando le città, le città-stato, le grandi città. Ecco, avete sentito sei o sette minuti solo perché è divertente, no? Ci ha raccontato che lui era iscritto al PD, ma tutti erano iscritti al PD. Ti immagini se a Genova non erano iscritti al PD e così via. Che poi non era PD, chissà che partito era allora. E allora ci ha raccontato un po' di queste cose, parlando delle difficoltà delle mamme, dei figli, di questa Sicilia bellissima, del ponte. E ha continuato per 21 minuti e ha fatto ridere tantissimo, no? Poi ha detto due cose serie. Una, questo fatto delle città-stato. Dice, sono le grandi città. Certo, perché Londra è Londra, Parigi è Parigi, New York è New York. Ma questa è una realtà che ci costringe a pensare cosa dobbiamo fare del nostro futuro. Perché guardate che regioni, tutto quello che volete voi, ma noi stiamo in una città che è Ragusa. Chi sta a Modica sta a Modica, chi sta a Vittoria sta a Vittoria. E dobbiamo fare in modo che queste città siano per noi il massimo. Devono essere adeguate al nostro modo di vivere. Ma chi è che lo decide qual è il nostro modo di vivere? Ma io credo che non dobbiamo inventare nulla. Abbiamo bisogno delle cose più semplici. Vogliamo vivere in sicurezza con i servizi tipo ospedale, l'acqua ed altro, la spazzatura che non ci trabocca dai cassonetti e altre tre, quattro cose che sono il minimo indispensabile per vivere civilmente e comodamente. dice, ah però ci sono tante persone che non hanno tutto questo. Ed è il problema che è stato sollevato in questi giorni. Ora stanno linciando Renzi perché ha detto una cosa che io dico da almeno cinque anni e che tutti hanno detto da almeno cinque anni. Non siamo più in grado di sopportare il numero di migranti che quotidianamente arriva nei nostri posti e quindi nelle nostre città. Il Movimento 5 Stelle questa cosa l'ha toccata appena perché sa che è scottante. Ma Renzi ha detto una cosa che mi sembra bellissima. Andiamo ad aiutare questi popoli a casa loro. Non mi pare che ci sia niente di offensivo anche perché mille euro qui valgono mille euro. C'è gente che li spende per andare a cena una sera ma mille euro lì servono a far vivere una famiglia per un anno. Non so se ci siamo spiegati. Mille euro ci sono persone che vanno nei ristoranti stellati e in cinque pagano mille euro. Ma mille euro utilizzati in una area che ha i problemi con mille euro gli crei un mare di cose. Vedete quelle pubblicità che arrivano e dicono vedete questo bambino con cinque euro gli garantite ma se gli garantiamo con cinque euro la vita? Allora la Sicilia, l'Italia ha speso nel 2016 700 e passa milioni di euro per l'accoglienza. Per gestire questa 700 milioni di euro. Se 700 milioni, metà nostra, metà della Grecia, metà di tutti gli altri paesi fossero utilizzati con dei piani Marshall. Vi ricordate com'era l'Italia alla fine della seconda guerra mondiale? Oggi per esempio ricade il 74esimo anniversario dallo sbarco americano in Sicilia. Era la notte del 10 luglio, no? Vi ricordate i bombardamenti, la costa, poi questo ne parleremo dopo. Allora cos'era l'Italia dopo la seconda guerra mondiale? Era un paese distrutto, molto più distrutto di quello che può essere, che vi posso dire, lo Zambia, il Kenya o altre cose del genere. Bene, il famoso piano Marshall ha fatto sì che arrivando migliaia di dollari, centinaia di migliaia di dollari, noi dopo 5 anni siamo arrivati al boom, il boom dell'Italia, 10 anni il boom. Ma perché sono stati fatti degli investimenti? Allora se noi spendiamo 760 milioni nel 2015, altrettanto nel 2016, quest'anno forse anche di più, le cifre sono enormi per l'accoglienza, per Frontex, per le navi, se si decidesse, come ha detto Renzi, di spendere una parte di questi a 50 milioni da dare in ogni nazione, noi e gli altri, per lo sviluppo, per ricrescere, non avrebbero bisogno di venire qui. C'è uno, a me pare brutto, che dorme sotto un albero in una strada di Ragusa, sotto un albero con un pagliericcio, è estate, meno male, ma dorme lì, è certamente uno che ha problemi, non ha dove dormire, che c'è di... era meglio questo che altro? E allora quello che ha detto Renzi dicendo aiutiamoli a casa loro, non mi sembra assolutamente nulla di offensivo e quindi tornando indietro, noi abbiamo bisogno di qualcuno che governi questa Sicilia anche in questa ottica, perché siamo diventati un paese disastrato, forse forse ci devo dare qualche lira anche a noi, vi faccio un esempio, si sta parlando delle province, di nuovo, tutto quello che è strade, escluso forse un pezzo di autostrada, ma neanche quello, da noi è disastrato, provate ad andare sulla Ragusa, Santa Croce, Malavita, l'erba è così, vabbè ma quella è in provincia di Ragusa, ma noi che siamo il famoso patrimonio dell'UNESCO, tutto quello che volete voi, il collegamento con la provincia di Ragusa, provate ad andare a Palazzolo, Palazzolo è uno degli otto comuni che sono patrimonio dell'umanità, bene, partite da Ragusa e provate ad andare a Palazzolo, guardate che cosa accade, tutte le strade per andare a Palazzolo sono interrotte, partendo da Giarratana a un certo punto c'è un bel cartello che dice di qua non potete andare e non ci puoi andare dalla parte interna, non ci puoi andare salendo da Montelauro, non ci puoi andare andando da Montelrusso Armo, devi arrivare a Montelauro e poi devi scendere, insomma tutte le strade che vanno a Palazzolo a Crede sono interrotte, devi azione di qua, a Bucchieri non ci puoi andare, a Giarratana devi girare, la strada è interrotta, come è possibile che due città, patrimonio dell'umanità, Palazzolo e Ragusa, transito interrotto, transito interrotto, deviazione, per dove? Come si fa ad andare a Palazzolo a Crede? Non è possibile, la strada quella tutta curve, a un certo punto è crollato un pezzo di muro e siamo rimasti così, è possibile questo? Allora noi dovremmo cercare di recuperare la importanza delle città e massimo massimo delle province, delle province quelle nostre che indicano qualcosa di omogeneo su alcuni problemi che secondo me sono la viabilità, le case popolari, un certo tipo di assistenza, l'assistenza per esempio turistica, che senso ha? Che ogni comune, strada chiusa al transito, la Giarratana Palazzolo, ma com'è possibile? Ma non si vergognano, questa strada è chiusa da dieci anni ed è chiusa all'altra parte, non fa niente nessuno, com'è possibile? Poi c'è anche quel pezzo di ferla, qualcuno, dove ci sono buchi che sono quando questo studio, dei buchi di cinque mesi quadrati, cose enormi, bene, allora nessuno fa niente, le città sono quelle che sono, qualcuno deve fare, allora la politica, va bene, viene Cancellieri, ma me le ha dette queste cose? No, Cancellieri mi ha detto per l'ennesima volta, la truffa, gli stipendi alti dei dipendenti, gli stipendi dobbiamo abbassare, le pensioni, ma che cazzalola ci interessa? A noi ci interessa che mi sviluppate questi problemi, che 11, 15 persone, 20 abbiano il vitalizio, ma non me ne frega niente, sono dei bastardi, quello che avete voi, ma a noi ci interessa questo, fate questa strada, ci interessa questo, guardate cosa c'è in questa strada, va bene, detto questo, almeno una strada cerchiamo di farla, ed è il caso della Ragusa-Catania, vi ricordate quando all'inizio vi ho detto, conta di più il comunicato stampa che la realtà dei fatti, perché appena finita la riunione ci sono stati quelli che hanno telefonato, la riunione a Roma però, quelli che hanno chiamato, telefonato per dire abbiamo, abbiamo risolto, abbiamo fatto, allora io in questi casi non mi interessa molto quello che dice Iano Currieri o l'altro, sono andato a sentire cosa dice il sovraintendente, essendo stato proprio la sovraintendenza ad essere tirato in ballo su questa vicenda, tutti i problemi e i dubbi si sono accesi quando il sovraintendente ha detto, ah ma così forse ci vuole troppo tempo, allora il sovraintendente era in questa famosa riunione del 10 luglio, c'erano un bel po' di persone, Iano Currieri ha mandato la foto del gruppo, ma a noi del gruppo non ci interessa niente, quello che ci interessa è la realtà dei fatti, vediamo cosa ci dice il sovraintendente Rizzuto intervistato sulla riunione di oggi. Sono soddisfatto, con i servizi abbiamo rappresentato quelle che erano le esigenze della sovraintendente in termini di tempo per poter istruire il soggetto, il Presidente ha inteso accogliere tale richiesta e ci ha assegnato ancora altre 30 giorni di tempo per poter chiudere il lavoro, questo non va ad aumentare i tempi per l'approvazione del soggetto, perché questi 30 giorni già il Presidente l'aveva per relazionare, fare la relazione finale e mandarla al Cipe, perciò entro i 30 giorni a lui assegnate tutti i pareri che arrivano, lui li prende in considerazione. Noi dall'istruttoria già in base avanzata ci servivano tre settimane, perciò siamo ampiamente dentro i tempi assegnati. Sono ottimista, c'è alcune problematiche relative… I dubbi che c'erano stati prima, sollevati, ora vengono fugati. Vengono fugati perché c'è stato tutto un lavoro preparatorio in questo mese, non è che i dubbi se ne vanno via da sole. Abbiamo fatto un lavoro preparatorio, si è fatto un sopralluogo nelle aree di tutela 3, boscate, con i tecnici dell'ispettorato del Comando Forestale, sia i tecnici della soprevendente e i tecnici della Marchi, che è il concessionario, hanno accertato che quell'area non ha le caratteristiche e questo verbale l'ho trasmesso già nella giornata di giorno 6 luglio al Dipartimento Peniculturale, affinché esso possa fare poi gli atti conseguenziali che naturalmente mi devono notificare da Palermo alla soprevendente. Da questo vi prometto di andare avanti. Nel corpo di vista archeologico si erano riscontrate alcune criticità, però nel progetto che in questi giorni, nella coproproduzione che la FAP che ha fatto alla nostra nota del 5 luglio, questa criticità viene affrontata e risolta. Per quanto riguarda i beni isolati, in questo mese di tempo i tecnici che ci hanno dato tutta una serie di sezioni sul tracciato e mettono in corrispondenza il bene isolato architettonico con l'autostrada e possono affermare che non ci sono criticità rilevanti, c'è qualche consiglia ma facilmente risolvibile. L'unico problema ancora rimane per i beni paesaggistici nel senso che, perché tutta la documentazione ci è arrivata due giorni fa, abbiamo iniziato a istruire il progetto stondando avanti e pensiamo che nell'arco di tre settimane, avendo il provenimento che deve fare il dipartimento notificato alla soprevendenza, possiamo determinarci con un parere su un progetto definitivo. Sono ottimista. Foglie, giochi e passatempi, via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo. Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. sui limiti che erano stati imposti prima. Il sovrintendente che aveva già superato alcune difficoltà può tranquillamente chiudere questo lavoro. naturalmente c'è una visione un po' diversa. Diano Currieri ha lamentato il fatto che la sovrintendenza aveva portato dei ritardi e la causa appunto di ritardi. Ora io però voglio dire un po' come il discorso dell'ospedale. Ma la ditta che doveva fare il progetto che ha cambiato perché magari i soldi sono diminuiti ma io non voglio andare a sindacare ognuno fa quello che può naturalmente non ci sono dubbi. Ma la ditta non avrebbe dovuto quotidianamente rapportarsi con la sovrintendenza? e questo sarebbe stato giusto. Poi il famoso piano paesistico. Attenzione, lo abbiamo sempre detto. Il piano paesistico può essere un bene ma se non lo sappiamo utilizzare diventa un male. Io credo nella vicenda naturalistica, tutto quello che volete voi, il territorio bellissimo. Ma se abbiamo un territorio che non viene curato, che non viene fruito, perché che mi lascia fare un'area che diventa una foresta vergine e poi appena c'è uno che non sta attento fa una vambata e brucia tutto. Io dico che anche il piano paesistico deve essere una idea forte ma che possa, come posso dire, rappresentare un'idea di sviluppo, un'idea di crescita, un'idea di crescita, non un'idea in cui blocchiamo tutto. Perché il mondo è fatto con qualcosa che si muove. Avete sentito come scherzava Grillo? I giapponesi, gli americani, quelli vanno avanti, ma consumano le riserve, consumate quello che volete. Ma se oggi noi ci fermiamo, gli altri ne scappisano, non ci sono altre realtà. Dobbiamo essere al passo, però magari con un occhio più di riguardo al territorio, al consumo, eccetera, eccetera. Questo mi pare una cosa molto interessante. A questo punto diciamo che questa famosa autostrada, forse in un mese, ora speriamo che non ci restate, ma diciamo che a settembre, poi a settembre ci sono le elezioni, perché le elezioni sono il 5 di novembre, quindi avete già visto il partito Cancellieri, che è stato individuato, il centrodestra a Naspa, ma sembra che su Musumeci ci sia un coinvolgimento. Poi c'è il PD, dovrà trovare certamente il suo candidato, a patto che non subisca poi un po' il ricatto di Crocetta. Io non voglio essere uccello di malaugurio, ma mi sembra che con Crocetta abbiamo qualche difficoltà. È probabile che possa recuperare, abbiamo ammandato l'altro ieri, avete visto quel filmato in cui ha detto la Sicilia ai siciliani, tutto quello che volete. Però dobbiamo dargli una Sicilia buona, mica una Sicilia a pezzi. E torniamo alla vicenda ospedale. Proprio lì c'è l'errore, perché il Presidente della Regione, Sindaco, Assessori, su questa vicenda avrebbe potuto fare blocco comune. E come ho sempre detto, a me non me ne frega niente chi è il colpevole. Per me il colpevole è uno solo, anzi la vittima è una sola. Cioè l'assassino non lo conosciamo, sappiamo chi è morto. A proposito di morto, si dice che ci sia stato un morto oggi riconducibile a questa vicenda, ma anche venerdì scorso dovrebbe esserci stato un altro in qualche modo riconducibile. Vi ho parlato anche di Totò Stella, non c'entra niente con Ragusa, ma Totò è stato costretto negli ultimi giorni della sua vita e è stato trovato a Vittoria, lontano dalla famiglia, perché qui non c'era come fare. Allora dico la vittima è uno solo, il cittadino ragusano. Intanto apprezzo questo intervento dell'RSU, che sarebbe la rappresentanza sindacale. Unitaria. Ed è l'unica testimonianza nella quale uno può credere senza pensare agli asti, l'astio di primario e cosa del genere. Dice tutto il sindacato, c'è stato l'assoluto rifiuto di accogliere suggerimenti e proposte sulla gestione di una delicata operazione come il trasferimento nei locali del nuovo ospedale. C'è stato il disinteresse per il contributo organizzativo dei veri professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, impegnati quotidianamente sul campo, che hanno provocato tante disfunzioni dell'ultimo minuto, cui gli operatori del comparto con grande senso di responsabilità e con il cuore hanno cercato di mitigare. Quindi, cosa dicono quelli della rappresentanza? Abbiamo chiamato i grandi professionisti e noi siamo stati costretti a mettere le pezze per mitigare, per ridurre i disagi, ma questo sforzo è stato vanificato da decisioni spesso incomprensibili, contradditorie e ondivache. Allora, io a questo ci credo, a quello che dicono qua il coordinatore Duilio Assennato, io ci credo. Che magari abbiano detto, ma vediamo una mano, che siano stati non accettati i loro consigli, ci credo. No? Vabbè. Però siamo sempre lì. Non vorrei che sia stato come alle primarie, visto che non vuoi che ti aiuto, ti metti i bastoni fra le ruote, perché alle primarie funziona così, le elezioni di Biccitto sono la dimostrazione. Siccome non siamo stati d'accordo, ora vi diamo tutte le difficoltà possibili ai pagiani. Spero che non sia stato così. Cioè che la rappresentanza sindacale abbia detto non ci avete ascoltato e sia andata avanti. Spero che non sia stato, perché qualche gola profonda ci deve essere stata. Qualcuno che gli ha detto qual era il motore che non funzionava o che mancava questa carta, ci deve essere stato. Qualcuno che aveva accesso alle segrete cose. Non c'è dubbio. Qualcuno che sapeva dove erano le carte e dove mancavano le carte. Quello è. Allora, se questa gente, da una parte, chi è stato, gli dobbiamo dire se è un cittadino integerrimo, dall'altra parte dobbiamo dire che sono 21 giorni che Ragusa non ha il servizio ospedaliero. 21 giorni, ringraziando sempre che le cose vadano bene. Oggi l'onorevole Orazio Ragusa, che devo dire, Orazio è una bellissima persona, ma come gli altri ha il difetto dell'addetto stampa. Anche lui deve arrivare primo e quando si vede che non c'è in quella giornata, ecco che gli viene in testa a qualche deputato. Ora facciamo una conferenza stampa. Siccome l'ha convocata alle 9.45, per le 11 meno un quarto, è chiaro che eravamo solo quelli invitati, così da amici, dalla telefonata. Quando siamo arrivati all'ospedale civile, devo dire che eravamo 5 o 6 giornalisti messi in un angolo, là vicino all'entrata principale dell'ospedale, e eravamo anche sotto scopa, perché i degenti, i parenti dei degenti, hanno visto questo piccolo assembramento all'angolo, davanti all'ex entrata degli autisti del pronto soccorso e riconoscendo il deputato, hanno incominciato a fare come si fa sempre nell'antipolitica e vergogna e controvergogna, e voi e qui e là gliel'hanno detto di tutti i colori. Per cui alla fine Orazio Ragusa ha anche preferito andare via per non dare poi adito a chissà quali conseguenze. Allora noi siamo riusciti a fare un'intervista molto breve, un'intervista di un minuto e mezzo, anche perché poi l'aria si era riscaldata troppo. Sentiamo. La conferenza stampa è una presa di posizione per dire che io sono contrario a questa gestione dell'aspe di Ragusa. Quello che sta accadendo in questi giorni è inverosimile. Siamo a cavallo di due mondi. Da una parte è un ospedale nuovo che deve aprire, a cui noi auspichiamo che venga presto, aperto e più presto possibile. Dall'altra parte alcune strutture sono rimaste negli altri ospedali e la gente non sa più dove andare, perché è inverosimile che un cittadino ragusano venga al civile e venga spedito a Modica, come è inverosimile che si vada all'Arezzo e vengono spediti a Vittoria. Tutto questo è incomprensibile, tutto questo è disservizio, tutto questo si chiama disorganizzazione. A questo punto il manager non può far altro che prendere le valigie e andarsene dove è venuto, perché noi ragusani non siamo abituati a questa cultura, non siamo gente che lavoriamo, che organizziamo, che razionalizziamo le nostre aziende, le nostre famiglie, le nostre imprese. Noi siamo gente operativa, noi siamo abituati a questo e vogliamo questo. E per la senata ragusana ci vuole questa organizzazione, serenità. Oggi c'è, come dire, malumore tra i cittadini ragusani, c'è il malumore tra i medici, tra gli infermieri, c'è un malumore generale a cui bisogna forre fine subito, prima che la questione degenere. Perché stamattina è passata qui tantissima gente che ha protestato verbalmente indicando responsabilità alla politica, dove la politica non ha nessuna responsabilità, la responsabilità è organizzativa e di gestione del manager. Però, onorevole, là ci sono i carabinieri perché non andiamo a fare la denuncia insieme. Io... Andiamo a denunciare l'interruzione di pubblico servizio. Sto pensando che potrei anche doverarmi a fare questo, voglio valutare attentamente questa circostanza. Va bene, dunque, avete sentito, avevo chiesto a Orazio Ragusa di farlo invece mia. Dice, c'è il comando dei carabinieri là, perché non vai a fare una denuncia? Allora, devo dire che noi ragusani su questo siamo un po' niente, non ci chiedete di fare questo, perché parlare sì ma fare mai, prendere in luce con le mani mai. Anche i nostri deputati ormai hanno imparato che si può gettare voci, poi quando si tratta di prendere posizioni, meglio tenerle molto soft perché non si sa mai nella vita, meglio poi si può recuperare, poi ne stringiamo le mani, facciamo amicizia. Quando invece uno va con le carte scritte succedono guai che non possono essere calcolati. Allora, a questo punto, cosa è successo? Questa è la denuncia che ho apprezzato io, c'è un altro giallo che è quello che riguarda Aricò. Ora, avete visto, Orazio Ragusa dice se ne devo andare, i sindacati dicono se ne devono andare, ma è chiaro, tutti i sindacati ce l'avevano con Aricò prima, tutti dal piano aziendale, perché lui dice che si comportava con strafottenza, era arrogante, quindi vi immaginate se in una situazione del genere potesse esserci una parola positiva in favore di Aricò. Io credo e insisto nel dire siamo per ora senza ospedale, qualcuno deve fare qualcosa, non lo so, se fossi un'organizzazione che ha dei tecnici dell'aria condizionata, io metterei a disposizione i miei tecnici e li manderei in task force dove c'è il motore dell'aria condizionata per farglielo aggiustare. Se fossi il responsabile di un ufficio di ingegneri e mi hanno detto che la scia non è preciso, ci mettisse a disposizione tutti i miei ingegneri per risolvere la scia. Cioè, quando uno vede che sta crollando il muro, mettersi di lato per vedere come cade non è una bella cosa, bisogna fare in modo che non cada. Quindi piuttosto che aspettare che Aricò si fa male, che qualche granata si fa male, che il drago si fa male e tutti gli altri, piuttosto di questo io vorrei che qualcuno prendesse in mano questa situazione, ha iniziato dal sindaco che domenica appunto era ad applaudire Grillo, ci mancherebbe altro. A Palermo 1 ne hanno sindaco buono, secondo loro, che appunto il sindaco di La Cusa, gli altri mancano a parlarne e di conseguenza era chiaro che dovesse andare lì. Ma allora doveva, come ho detto io, creare un'unità di crisi e metterla in funzione dal primo momento. Questo non è stato fatto, io ho fatto una denuncia, chiedo scusa se qualcuno se la prende, ma io non trovo altre soluzioni in questo momento. Detto questo andiamo a chiudere, andiamo a chiudere, parliamo di altre cose. Allora, intanto ci sono delle realtà che devono essere evidenziate, ci sono le lamentere a vittoria per quanto riguarda la spazzatura, c'è un problema che riguarda la ditta che fa la raccolta della spazzatura a vittoria e naturalmente ci sono moltissime lamentere e si torna a parlare di connivenze a vittoria. Noi, come voi sapete, stiamo aspettando appena il buon Lomonaco ce lo permetterà. Andremo a ritrasmettere nuovamente sulla zona di vittoria e così, che vi devo dire, riapriremo la nostra area appena appunto avremo questa possibilità dal punto di vista tecnico, perché dipendiamo ora soltanto dai tecnici. Quindi tutte le altre cose su vittoria le seguiremo dopo. Invece ci sono alcune cose che sono abbastanza positive. Intanto la prima è quella del centro storico di Ragusa, Ibla, anche se c'è un'area un po' particolare, perché incredibilmente questo trend positivo del turismo cammina a flussi, a fasi alterne. Ci sono dei weekend particolarmente ricchi, ci sono degli altri weekend dove invece c'è una presenza minima di persone. Quello che invece serve in un'area come Ragusa, Ibla è proprio la possibilità di far vivere il centro storico anche per esempio con la forza universitaria. Quando l'altro ieri abbiamo parlato delle attività estive qui a Ragusa organizzate dalla cattedrale c'era anche il professore Burgio che è il presidente della facoltà di lingue che c'è a Ragusa, Ibla. Facoltà di lingue. Bene, c'è una novità positiva perché in pratica l'università cresce, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, l'università cresce e quindi c'è quest'anno, quest'anno, in questa nuova, questo 2017-2018 c'è la possibilità di avere più studenti. Vediamo. Allora, Facoltà di lingue e letterature straniere Ragusa, Ibla, consorzio ebleo insomma universitario. Allora siamo con il preside di tale facoltà, vogliamo brevemente fare una mappa concettuale di luci ed ombre dell'università? Dunque, intanto voglio dire che si è aperto il bando per l'iscrizione al test della triennale che si terrà l'8 settembre, fino a fine luglio il bando è aperto, la novità di quest'anno è che i posti a disposizione degli aspiranti e dei candidati non sono più 230 ma 250, perché abbiamo verificato i 30 degli anni passati, negli ultimi tre anni li avremmo riempiti comunque, questo è il massimo che il Ministero ci consente di avere e noi comunque abbiamo provato un po' così ad innalzare questa sticella e speriamo di confermare questa... Le richieste ci sono, sono tante? Fino all'anno scorso abbiamo toccato le 454 richieste che vengono, diciamo una buona metà dall'area eblea, l'altra metà soprattutto dalla provincia di Catania, dal Calatino, da Catania città e poi dalle province centrali dell'isola e grazie ad alcune materie che come sai insegniamo solo noi, abbiamo alcune specificità che nel meridione sono rare da trovare, il cinese, il portoghese, la lingua dei segni e questo attira anche ragazzi da altre regioni. Il territorio come risponde? Sto parlando insomma del tessuto sociale anche dove è inserita l'università? Diciamo che è stato un po' inserita, nel senso che quel dimagrimento improvviso che l'università ha subito quando insomma a Ragusa c'era una presenza più massiccia, c'era c'era grade, c'era spazio, a un certo punto sappiamo questa storia come è andata, quindi all'inizio è stato un po' complicato risalire la china e come dire redare il senso di questa presenza, adesso invece mi sembra che le cose stiano migliorando, stiamo lavorando ad una rete, ad una presenza nostra in una rete territoriale sempre più ampia, ci sono diverse iniziative, a cui collaboriamo e speriamo insomma in questo senso di poter dare un contributo, il rettore quando il nostro rettore ci ha invitato a diventare un po' o a proporci come faro culturale costante per questo territorio e noi stiamo cercando di interpretare al meglio questa nostra vocazione. I docenti sono presenti sempre oppure ecco? I nostri docenti che vengono da Catania, in realtà vengono da mezza Italia perché noi abbiamo docenti che vengono da tutte le regioni, mi sembra che i risultati siano buoni, gli studenti sono quasi mille, sono soddisfatti, abbiamo una vita universitaria discretamente intensa, speriamo insomma, noi coltiviamo questa piccola utopia che IBL al centro storico diventa un grande campus universitario. Ok, grazie. Buone nuove dall'usato, continua ancora per pochi giorni la promozione del gruppo SCAR di Ragusa sulle vetture usate, aziendali e non. È il momento di cambiare. Alla SCAR di Ragusa troverai auto di tutte le marche, selezionate e garantite, a prezzi convenienti e facilitati. Visita il nostro reparto usato dove ogni auto riporta la data di matricolazione, i chilometri percorsi e la garanzia offerta. Ti aspettiamo per farti scoprire le tantissime buone nuove dall'usato del gruppo SCAR. Grazie. 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 Foglie, giochi e passatempi. Via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi in retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo. Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Benissimo. A questo punto è una sfida per l'Università di Ragusa molto bene. Chiudiamo il nostro telegiornale. Vi rimanderemo in onda un'intervista che ha fatto Jenny Papa con la simpatica Federica Bisegna perché quei giorni non abbiamo trasmesso, avevamo delle difficoltà quindi probabilmente quell'intervista non l'hanno vista in molti. La rimandiamo in onda. Vi ricordo che martedì sera alle 21 appoggio del sole nell'auditorium, nell'anfiteatro ci sarà lo spettacolo di Iskra Menarini. Sarebbe la cantante che ha accompagnato per tutta la vita Lucio Dalla nelle sue canzoni. Quindi canterà molte canzoni di Lucio Dalla. E quindi è una cosa bellissima. I biglietti fino a domani a metodogiorno, diciamo la mattinata, potranno essere acquistati presso l'Erea Tours. Costano 15 euro, se no poi al botteghino sono disponibili. Vi ricordo il viaggio in Russia dell'Erea Tours. Quello in Piemonte è chiuso e la data è proprio l'11 di luglio. Non ci sono più le opzioni, quindi non possiamo fare più niente. Partono da Palermo, noi da qui della Cusa non possiamo mettere altri. Vi ricordo però che dal 26 agosto al 2 di settembre c'è questo viaggio, come ogni anno organizzato dalla Rea Tours, per la Russia. Russia vuol dire San Piero Burgo e Mosca, con volo all'Italia, hotel 4 stelle centrali e tutto quello che è sempre contenuto. Potete andare a vedere sul sito www.ereatours.it o .com perché l'ha tutto il programma, quindi potete vedere tutto il programma. Ma noi vi lasciamo, dopo questa intervista, con qualche minuto di immagini e musica con la scritta che vi ricorda le date. Poi nei prossimi giorni parleremo, perché anche qui abbiamo una decina di giorni per poter prenotare, ma vi assicuro che è un viaggio di una bellezza incredibile. Mosca e San Piero Burgo sono la quintessenza della Russia, ci sono tantissime belle città, ma Mosca e San Piero Burgo sono straordinarie. Guardate i colori, bellissimi. Allora, vediamo ora questa intervista di Gianni Papa, dopo manderemo in onda questa idea della Russia con musica e sottotitoli. Grazie amici per la cortesia attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Come vedete accanto a me è un personaggio che non è nuovo né per me né per voi, io sono, non lo so quante volte, ma voi lo vedete spesso in televisione e anche a teatro. Federica Bisegna. Buonasera, buonasera. E se qua è perché lo faccio subito prima che me lo dimentico, perché hanno dato a lei e ovviamente anche a Vittorio Bonaccorso che hanno lavorato ensemble, un premio importante, premio nazionale Federico II, seconda edizione Puer Sicilia, premio scuola teatro 2017 con la motivazione che vi leggo per l'impegno nella diffusione della cultura teatrale e per la capacità di far diventare il palcoscenico importante percorso di vita. Come si suol dire, la giuria era molto qualificata. Allora Federica, voi siete usi o ad usi prendere premio, ma questo visto che vi ha fatto particolarmente piacere, no? Beh, questo sì, innanzitutto perché è stato il secondo anno consecutivo, non so perché, perché hanno avuto... Allora abbiamo capito, la giuria diceva... Ce l'ha avuto due volte, forse perché l'anno scorso non siamo potuti andare a ritirarlo di persona, poi ce l'hanno fatto avere chiaramente in seguito e quest'anno a sorpresa... Mi piace questa data, è il prossimo concorso letterario che faccio, faccio vedere, prima non ci vado così... E così te la continuano a dare finché non vai a prenderlo, non lo so. Però ecco, è stata una bella sorpresa prima di tutto perché non conoscevamo nessuno degli organizzatori, può sembrare una cosa banale, scontata... È l'unico modo in cui il premio fa davvero piacere. No? Cioè credo che abbia un valore aggiunto perché ti arriva veramente all'improvviso ed è un'autentica bella sorpresa. L'anno scorso quando ci hanno chiamato, tra l'altro la serata di premiazione si svolge a Pedara, proprio sotto l'Etna, questo paesino devo dire delizioso, e noi veramente eravamo proprio così sorpresi perché tra l'altro insieme è anche a nomi, diciamo, più legati alla cultura di quella parte di Sicilia, di Catania oppure di Palermo. Quindi l'idea che qualcuno che non sia di Ragusa e provincia... Si ricordi che lavorano anche in questa zona... Sì, dal momento che noi lavoriamo molto radicati nel territorio, cioè non è che siamo perennemente in giro per l'Italia, tutt'altro abbiamo fatto questa scelta di concentrarci su questo territorio, ci ha fatto doppiamente piacere, cioè si sono accorti dell'esistenza della compagnia Godot e soprattutto in questo caso della scuola di teatro che devo dire è diventato il nostro marchio distintivo, il nostro vanto perché insomma abbiamo dei ragazzi... Fermati lì, la scuola di teatro, il premio è stato dato agli attori Federica e Vittorio ma credo almeno in parte altrettanto ampia ai professionisti che dirigono questa scuola estremamente importante, cosa della quale sicuramente siete contenti perché la dimostrazione che riuscite a trasmettere la vostra capacità professionale ai giorni, anche perché penso che lavorare con giovani, voi non lavorate solo con i giovani, comunque con quelli che si accostano a quelle che si accostano al mondo meraviglioso che è il teatro, sia una soddisfazione doppia, davvero ancora più grande. Guarda, voi mi avete gentilmente invitato e anche questa è stata una sorpresa, non è stata perché più delle volte ci mettiamo d'accordo, insomma lo diciamo apertamente, facciamo tutta la luce del sole perché magari stiamo promuovendo uno spettacolo, la stagione. In questo caso invece gentilmente sei stato proprio tu a chiamarmi per venire a parlare di questo piccolo nostro orgoglio e io vengo proprio da una prova dove ho appena finito di parlare con i ragazzi, insomma con quelli che hanno deciso di lavorare duramente, molto duramente anche in estate e parlavo di questo, cioè non ci interessa solo insegnar loro a recitare bene, questo è importante, noi abbiamo lavorato tantissimo per quasi vent'anni quando poi abbiamo deciso di confrontarci anche con l'insegnamento, con il laboratorio perché sentivamo il piacere, la vocazione, l'urgenza, la necessità di trasmettere qualcosa della nostra esperienza ad attori, il nostro è un laboratorio, qua allora hanno messo scuola di teatro ma noi continuiamo a chiamarci semplicemente laboratorio. È una cosa bellissima, non è una diminuzione. Sì, perché riteniamo che comunque abbiamo una sede che è una piccola sala prove e siamo in due che da soli portiamo avanti tutto il lavoro, tutte le ore, tutti i corsi, quindi noi riteniamo che sia più giusta questa connotazione del laboratorio, però ecco non è solo l'insegnare a fare teatro tecnicamente. Quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo, anche naturalmente con umiltà, con umiltà assolutamente prima di tutto, è far nascere in questi ragazzi degli interrogativi, dei bisogni, far sì che questi giovani possano andare nel profondo di loro stessi, possono cercare loro stessi, possano cercare la loro anima e cercare di tirar fuori tutto quello che più autentico c'è in loro senza necessariamente appiattirsi ed omologarsi nella società che li circonda, che non è delle migliori. Che lo dico subito, io credo che il periodo storico, dove questi ragazzi devono portare avanti la loro adolescenza, non è dei migliori, io mi ritengo, credo di essere stata più fortunata. Allora, voi cercate, se ho capito bene, di perfondere, di trasfondere nelle vene di questi ragazzi, ripeto non solo ma in gran parte ragazzi, quello che è l'essenza più vera e significato più profondo del teatro, del teatro inteso non nel senso di teatro che della tua, ma proprio di quello che il teatro vuole dire. E io credo che il teatro sia un modo innanzitutto di crescere, che è la cosa più importante. Esattamente. Cioè crescere, porsi delle domande, perché attraverso i personaggi, attraverso i grandi autori, le grandi parole che, ora noi ci stiamo misurando con lo straordinario Pirandello, attraverso questi grandi autori, questi grandi pensieri, queste grandi opere, ma anche quando ci confrontiamo con una scrittura più leggera o una scrittura originale, ogni tanto anch'io mi sono cimentata a scrivere, attraverso tutto questo l'essere umano conosce più se stesso, impara a stare con gli altri, a confrontarsi con gli altri, a capire di più gli altri, il mondo che lo circonda. Si fa delle domande, non assorbe tutto passivamente così senza cercare di andare più a farlo. E secondo te riesce a darsi anche qualche risposta? Ahimè, le risposte sono sempre poco, io qua in questo godò non a caso, sono un po' becchettiana, però magari una risposta per quel momento, anche se poi quella risposta cambierà. Comunque è importante sia che uno tenti di darsene. Si, ecco, qualche risposta, qualche momento di, come posso dire, di amore autentico per qualcosa, per qualcuno, il teatro riesce a smuovere quello che di più bello c'è dentro di noi, il teatro che noi cerchiamo di fare, perché se poi parliamo del mondo dello spettacolo in genere o del teatro a certi livelli, ti assicuro che non è così. Infatti alcuni dei nostri allievi che hanno iniziato a misurarsi con l'esterno, hanno fatto la scelta di andare fuori a Roma, a Milano, hanno fatto delle esperienze anche non tutte belle, delle esperienze dove hanno capito, ma il teatro è così, ma allora io voglio tornare a casa, perché noi con voi non abbiamo mai vissuto cose di questo genere, però noi li abbiamo sempre informati. Devevo sapere che si troveranno a confrontarsi con cose. Noi siamo durissimi e cattivissimi in questo. Allora, dicevo, in questo vostro, ricomplimentate, ve lo faccio vedere un altro attimo per il premio, non è l'Oscar, neanche il premio Ubu, ma si difende, veniamo, diciamo, in questa seconda parte della chiacchierata due cose, uno poi alla fine parleremo dei programmi immediati, ma voi avete sempre, e questo credo molto intelligentemente, più che supportato direi integrato questo discorso vostro del teatro con alcuni grossi nomi che vengono a portare la loro arte, la loro professionalità e soprattutto fanno vedere come, possiamo dire, una cartina di tornasolio di come quello che voi cercate di fare corrisponde a quelli che sono i dettagli giusti, perché è logico che uno anche, qualunque fisico, penso che si avesse… Metti in discussione, accetti il concorso, con il rischio che poi… L'anno scorso io ne ho seguito uno che poi è stato semplicemente straordinario, si, non a caso, ma si raccusa che è stato Massimo Venturiello, ma ce ne sono stati tanti altri. A proposito di Massimo Venturiello, poi sapete, grande attore di cinema, di teatro, di televisione, doppiatore eccezionale, e tra l'altro, cosa che non guasta mai, anche persone, estremamente disponibili e cortese, cosa estremamente importante, so che fra non molto lo avrete, questa volta voi lo avrete e lo avremo noi, perché lo avrete voi inserito nella vostra proposta, quando e dove? Noi con Massimo Venturiello, veramente è una cosa del tutto inaspettata e improvvisa, perché ci siamo messi d'accordo da due o tre giorni, non speravamo di trovarlo libero e disponibile, ci siamo così voluti giocare questa carta e lo avremo con un cameo prestigiosissimo all'interno della nostra pirandelliana, che faremo il 29 e 30 luglio alle 21 e 30 e il martedì primo agosto, sempre alle 21 e 30, sulla splendida scalinata del castello di Donna Fugata, dove l'anno scorso abbiamo fatto una piccola stagione di tre appuntamenti che è stata bellissima, in gran varietà, ma abbiamo fatto anche Storia di Medea e una shakespeariana e devo dire che il successo è stato bellissimo, abbiamo sperimentato questa novità di fare lo spettacolo sulla scalinata, quindi andando su e giù sulle scale senza nessun orpello, senza nessun palcoscenico, il pubblico veramente è stato entusiasta e noi abbiamo fatto sei serate tutte pienissime, quest'anno abbiamo voluto dare qualche cosa di più a questo pubblico, in occasione del 150esimo, perché è un'occasione importante, 150 anni della nascita di Pirandello, Pirandello è il più grande autore, drammaturgo italiano, credo che insieme a Edoardo siano i due baluardi, vedo che dire italiano sia molto limitativo, sono nomi mondiali, Pirandello è mondiale, europeo, vengono come Edoardo, come Verga, vengono rappresentati in tutti i paesi e abbiamo detto sarebbe bello se in questa carrellata di personaggi ci fosse una proposta anche di Massimo Venturiello. E Massimo Venturiello interrogato al riguardo. Ho mandato prima un messaggino su Whatsapp, ma per caso, fine lunedì, e lui mi ha detto Federica sai che in quel periodo sono libero, chiamatemi a più presto e è stato come sempre gentilissimo, disponibilissimo, lì forse è l'unico con il quale dopo lo stage abbiamo continuato a mantenere un rapporto, ha incontrato alcuni dei nostri allievi a Roma, si trovavano lì e lui li ha voluti incontrare, li ha ospitate a casa sua, loro hanno conosciuto anche Tosca per le consiglie. Che è una attrice e cantante bravissima, sono una coppia veramente eccezionale, hanno fatto spettacoli straordinari, uno dei suoi spettacoli è credo La Strada o quello su Chaplin, è stato il miglior spettacolo teatrale dell'anno. Qualche mese fa a Domenica Inn fece una parte di quello. Barberia che è quello con cui ha lavorato con i nostri ragazzi. Assolutamente è superbo. Adesso io sono andata a Catania a vedere il suo profumo di donna, veramente da brividi perché lui fa sì. Il ruolo di Gasman e di Al Pacino. E io sono più affezionato con tutto che adoro Al Pacino come tutti, ma sono affezionato al profumo di donna di Gasman. Perché era quello di Gasman era più europeo, non lo so, era più nostro. E Venturiello in certi momenti veramente ricorda il grande Gasman, cioè lui è un attore che si mette al servizio del personaggio con una umanità, una professionalità veramente straordinarie. Ha creato la prima cosa per telefono, ci ha chiesto dai nostri ragazzi, ma ci sono, ha voluto sapere chi c'era, chi non c'era, Anita non ci sarà perché Anita adesso è a Londra, poi andrà a New York, Giulia è impegnata a Milano, mi dispiace però Luca, Giuseppe, Gaia e Federica, Lorenzo, ce ne saranno di nuovi. Cioè è bello questo, lui si è calato in una realtà piccola, provinciale, perché vuoi o non vuoi noi siamo... Ma lui resta un uomo del sud della provincia di Salerno, di un paesino e quindi certe cose le capisce. E si è innamorato di questa realtà, ha apprezzato tantissimo il nostro lavoro sui ragazzi, perché li ha trovati tutti di ottimo livello. Al punto di accettare a scatola chiusa perché lui sarà inserito dentro lo spettacolo che Vittorio sta costruendo e lui ha detto lavorate in tutta tranquillità, io ho fiducia in voi, farete una cosa bella e abbiamo scelto, io non l'anticipo adesso, abbiamo scelto il personaggio, insomma le cose che farà. Io qua ti fermo perché vedi quel coso che l'ampeggia là sotto, siamo oltre i 14 minuti. Va bene, va bene. Allora, diciamo solo che ci sarà. Siamo contenti. 30, 31 e 1. 29, 30 luglio e 1 agosto. E poi, quindi. I vieti da bedda magi, insomma il patrocino del comune, adesso capiremo meglio in che termini il comune potrà intervenire dopo il bilancio, ci ha promesso un aiuto perché poi noi faremo un altro spettacolo, sempre Pirandello, dopo Ferragosto. e insomma è un filo perché il nostro progetto sarebbe di creare un legame, lui ha una scuola importante a Roma che è l'Officina Pasolini e stiamo ragionando di come iniziare a far lavorare queste due scuole. Di fare rete anche in questo campo. Sì, assolutamente. Allora, prima che ci tiriamo tutto l'indice solo noi, abbiamo fatto, manco io, abbiamo fatto già quasi un quattro ore, ricordo che abbiamo avuto il piacere qua Federica che per lei e per Vittorio Bonaccorso, è venuto a parlare di questo meritatissimo, se mi posso permettere di dirlo, premio nazionale Federico II, di questo suo programma qua, questa pirandelliana che vi vedrà sulle scale del castello di Donna Fugata e credetemi al di là di tutto del problema di Vittorio, il fatto di riuscire a non cadere è una cosa tutt'altro che semplice, ne sanno qualcosa di addossatrici, ho disfilate, ne ho viste in vita mia, non al che tema tante vi assicuro che è complicato e per il resto non possiamo fare altro che arrivati alla centocinquantesima intervista comune a 200, lo sai che scatti? E beh, 150 anni di pirandello, 150 anni di intervista. Tra poco scatta il bonus, tutto in d'altro, ringraziare Federica e ringraziare Vittorio per il lavoro che fanno e complimentarsi da ragusani e di appassionati di teatro. Anche perché insomma la maggior parte di tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sempre senza finanziamenti. Benissimo, questo è un attimo motivo che non dimentica mai e sicuramente ha ragione. Ma però ci tengo perché è importante. Detto questo ringraziare Federica e ci diamo appuntamento, ci diamo, non li diamo, cioè andate a vedere insieme con Massimo Venturello che credetemi vale davvero la pena a Donna Fugata. Grazie Federica e ti aspettiamo per il prossimo premio. Grazie. Vi salutiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.